e passiamo al meteo per oggi previste precipitazioni abbondanti vi consigliamo di rimanere a casa domani piove fuori stagione lo dice lei signor dottore ci sono i segni in terra e in cielo è tutto finto che tende al vero domani piove signor dottore l'ha detto lei fuori stagione e già lo so com'è ci si aspetta per bisogno e non per scelta qualsiasi vento di novità per il momento ritarderà e già lo so com'è ci si aspetta per bisogno e già lo so com'è il ricordo è il ricordo è la foto di fretta domani piove fuori stagione lo dice lei signor dottore domani piove signor padrone l'ha urlato lei fuori stagione fuori stagione fuori stagione E passiamo al meteo, per oggi previste precipitazioni abbondanti. Vi consigliamo di rimanere a casa. La piena oltre, viste, è la tua. Questa è la prima fase. Ehi, bravo.